L'hanno sempre avuto il controllo, l'interno non è stata pericolosa e loro hanno spiegato tante occasioni per chiudere la partita. Spogra ben organizzata, stanno bene in campo, ma soprattutto fisicamente hanno vinto tutti e due individui. Alla ventura la partita con il gol di Jovic e volano ai quarti di finale. Domani vi ricordo anche l'appuntamento con i sorteggi sia della Champions che dell'Europa League. E qui finisce 1-0 con il gol di Jovic, adesso Anna Bilò, i suoi ospiti, tutte le analisi, i contributi anche qui da San Siro. Per quanto ci riguarda, grazie da Massimo Manarello.